Transport Safety, questo è il titolo del seminario sulle norme in materia della salute e sicurezza dei tirocini aziendali, organizzato da Luciano Ferrone, presidente CNA FITA Abruzzo, presenti gli studenti dell'ITS Most di Ortona. Ci fa molto piacere essere qui oggi presenti perché questo dà questa impronta verso il mondo del lavoro, dando un segnale in cui comunque viene spiegato cosa significa e qual è l'obiettivo. Noi continuiamo in un periodo come questo a parlare di cifre e l'obiettivo delle aziende è avere praticamente quel parametro zero sugli infortuni del lavoro. Oggi ci sono qua dei ragazzi che affronteranno questo percorso scolastico per poi entrare nelle nostre aziende e la formazione è molto importante perché il bene più grande che abbiamo, quello che continuiamo a dire, è la nostra vita. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema ancora molto sentito e ancora molto sottovalutato. Ci rendiamo bene conto che in questo momento la situazione è critica per tantissimi punti di vista. Siamo all'indomani, forse all'indomani del termine di una pandemia, siamo in una situazione di guerra molto critica e in aggiunta questa situazione di emergenziale legata al gasolio. Restano fermi però i punti cardini della sicurezza sul lavoro. Questo vale sia all'interno dei magazzini, sia nelle operazioni di carico e di scarico, un tema ancora a cui viene data ancora molta poca importanza, ma che rimane comunque il cardine. Ed è quindi importantissimo far vedere ai nuovi ragazzi, alle nuove eleve emergenti, quali sono gli strumenti giusti per operare con sicurezza. Bisognerebbe essere un pochino più concreti nel parlare di sicurezza. Servono fatti che possono portare in evidenza la cultura nella sicurezza. Norme a volte sempre più restrittive, sempre a carico delle aziende, non sempre sono il risultato migliore. Ecco, focalizzarsi sulla formazione, focalizzarsi sulla formazione specifica, opportuna, questo secondo me può alimentare invece una giusta cultura per tutti gli operatori del settore.